Presentato stamani presso il Palazzo Comunale, il dono che la città di Arezzo consegnerà al Santo Padre in occasione della sua visita pastorale domenica 13 maggio. Si tratta di una spilla d'oro per il piviale, ideata da Enzio Scatragli e realizzata da 1AR. Il gioiello presenta un grande rubino centrale, simbolo di una goccia di sangue. Alla conferenza stampa presenta anche Sergio Squarcialupi, che con il passaggio delle quote azionarie di 1AR è da ieri il nuovo proprietario della storica azienda Ora Faretina. È un grande esempio del quale io ringrazio Sergio Squarcialupi e l'azienda 1AR che lo vede presidente. È un'occasione irripetibile per dimostrare a tutta la collettività retina quanto sia grande la capacità imprenditoriale di questa terra e quanto sia grande l'esempio che Sergio Squarcialupi ha dato rimettendosi a capo di un'azienda e creando le condizioni per il suo futuro e per la salvaguardia di oltre 300 posti di lavoro. Abbiamo fatto un passo da gigante perché si è fatto in pochissimo tempo uno spostamento che sembrava irrealizzabile. Siamo messi in moto a lavorare, siamo in controtendenza nel senso che noi il lavoro ce l'abbiamo. Abbiamo dei costi di produzione troppo alti ancora, questo è il difetto della 1AR perché siamo organizzati come eravamo organizzati quando non si facevano 5-6 tonnellate d'orificeria, se ne faceva 50. sono stati di produzione. Grazie a tutti.